L'Università di Siena ha conferito la laurea onoris causa in scienze linguistiche e comunicazione interculturale al presidente del Parlamento europeo Martin Schulz, alla cerimonia anche il presidente della Toscana Enrico Rossi. Caso Regeni, politica internazionale, festa del 25 aprile, i temi principali toccati dall'intervento di Schulz. L'Europa, ha detto, è fondata sui valori dei partigiani e dell'antinazismo. Grazie.